Parlando di decoro, il decoro diventa più importante negli stati sociali del paese. I poveri, gli strattati, i migranti non sono più un problema sociale da adesso in poi, grazie al partito democratico, ma sono diventati decoro, un problema di decoro. Quindi come soluzione per prendere il tasco urbano, per avvincanarli dalle città, per non farli vedere, per nasconderli, per la brava gente che non li deve...